Concessionarie di automobili, bar, videolotteri, sale slot, servizi di scommesse e perfino negozi di ortofrutta. Nella gestione di queste attività commerciali, tutte formalmente lecite, veniva riciclato il denaro proveniente dal traffico di stupefacenti dell'organizzazione criminale composta prevalentemente da soggetti di nazionalità albanese e sgominata nel corso dell'operazione, condotta da oltre 150 carabinieri e finanziari dei rispettivi comandi provinciali di Chieti dalle prime luci dell'alba di questa mattina. Supportati da militari dei reparti speciali, unità cinofile antidroga, anti-esplosivo e per la ricerca di valute, con l'ausilio di elicotteri multifunzione, carabinieri e guardia di finanza hanno eseguito 20 ordinanze di custodia cautelare, 18 in carcere e 2 ai domiciliari, nei confronti di altrettante persone appartenenti a un'organizzazione operante nell'area del Vastese ed edita al traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti e attività estorsive, condotte anche mediante l'utilizzo di forme violente e con l'ausilio di armi. Le misure restrittive sono state messe dal GIP del Tribunale dell'Aquila, sul richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a conclusione dell'attività di indagini avviata nel 2019 in seguito all'operazione Evelyn, compiuta nel 2018, sempre in maniera congiunta da carabinieri e guardia di finanza e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia dell'Aquila, che nel 2018 aveva portato all'esecuzione di altre 20 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di diversi soggetti, correlati alla criminalità albanese e accusati di traffico di stupefacenti e detenzione illegale di armi operanti prevalentemente nell'area di Vasso e San Salvo. Gli arresti e le perquisizioni di oggi sono invece legati a un'altra associazione criminale, sempre di estrazioni albanese, che originariamente risultava in contrapposizione con quella smantellata dall'operazione Evelyn e che in un secondo tempo ne aveva preso il posto nello stesso territorio abruzzese, monopolizzando in forma esclusiva e sistematica, anche attraverso l'utilizzo di armi, il traffico e lo spaccio di ingenti quantitativi di cocaina ed eroina, di cui la banda si approvvigionava in Emilia Romagna, Puglia, Abruzzo e Calabria, in quest'ultimo caso attraverso rapporti con esponenti delle Endrine operanti nell'area di Vibo Valencia. Lo stupefacente veniva poi ridistribuito a livello locale da soggetti di nazionalità albanese e italiana, mentre i proventi del traffico venivano ripuliti attraverso la gestione di attività commerciali, come appunto un bar di San Salvo, sequestrato in mattinata dai militari e che costituiva la principale base operativa e cabina di regia del sodalizio criminale, da cui si è dipanato lo scenario investigativo che ha dato il via alle indagini. Oltre ai 20 arresti sono state contestualmente eseguite anche decine di perquisizioni locali presso abitazioni e altri luoghi nella disponibilità dei soggetti coinvolti, che si occupavano di controllare e gestire i servizi di sicurezza dei locali notturni presenti lungo la costa meridionale abruzzese e dell'Alto Molise, attraverso estorsioni sistematiche attuate nei confronti dei proprietari anche con l'uso di armi e materiali esplodenti, condotte che hanno determinato l'aggravante del metodo mafioso a carico dei membri dell'associazione criminale.